CELT è un'azienda italiana leader nello sviluppo di soluzioni tecnologiche per le reti telecomunicazione, per l'automazione delle reti elettriche dei trasporti e per la cyber security ed è presente sui mercati italiani e internazionali da oltre 45 anni. Per quanto ci riguarda il marketing è molto importante a supporto dello sviluppo del business e della reputazione e della conoscenza del brand sui mercati. In questo senso siamo molto attivi utilizzando tutte le leve di marketing che vanno da quelle tradizionali a quelle digitali. Damco è uno dei nostri partner principali in molte di queste attività che vanno dallo sviluppo di collateral di marketing come ad esempio brochure, company profile eccetera fino alla realizzazione di visual e di asset grafici per gli eventi a cui partecipiamo a livello internazionale. Posso dire che Damco sicuramente è un partner consolidato perché lavoriamo insieme da diversi anni e è anche un partner importante perché c'è una sintonia completa sia dal punto di vista della comprensione di quella che è la richiesta e degli sviluppi di collaborazione a quattro mani in cui c'è una piena sintonia. Quindi mi sento di consigliare a tutti Damco per la realizzazione delle proprie attività di marketing.